Altro cambio della guardia. Da questa mattina Teore Grimaldi non è più l'allenatore dell'audace Cerignola. Il tecnico campano infatti è stato sollevato dal suo incarico dal presidente Nicola Grieco e dall'intero staff dirigenziale degli Ofantini. A due giorni di distanza dallo scialbo pareggio senza reti contro il Pomigliano sarà il suo vice Vincenzo Silvestri a guidare la squadra nelle ultime tre partite della stagione regolare e in occasione dei play-off del campionato di Serie D. Si tratta dunque del terzo e sonoro in questa stagione per un allenatore del Cerignola dopo i precedenti con Francesco Farina, il tecnico della promozione in quarta serie, e Vincenzo Feula, a rischio anche la posizione del direttore sportivo Gianluca Torma e di alcuni calciatori. La trentunesima giornata intanto sorride decisamente alla capolista del Girone H. Il Potenza infatti rifila un poker di reti, due per tempo al Picerno, riscatta la sconfitta nel derby lucano dell'andata e conserva ben otto punti di vantaggio sulla Cavese, vittoriosa a sua volta 4-1 in casa con la Cenerentola Sporting Fulgor. La formazione allenata da Nicola Ragno dunque è ad un passo dal ritorno tra i professionisti. Play-off certi non solo per il Cerignola ma anche per il Taranto che vince 3-1 e rimonta a Gragnano e per il team Altamura sconfitto dopo una lunga serie di risultati positivi tra le muramiche con il Francavilla in signi. I biancorossi di Ciro Ginestra torneranno in campo domani alle 20.30 nel derby esterno con il Gravina sconfitto domenica 2-0 a Torre del Greco. La partita verrà anticipata di 4 giorni per la concomitanza con la fiera di Gravina. Brutta sconfitta 2-0 in trasferta per il San Severo nello scontro diretto con la Versa. Difficile a questo punto evitare i play-out per i giallorossi. Finisce in parità 1-1 infine il derby tra Manfredonia e Nardo. Sipontini retrocessi in eccellenza con tre giornate di anticipo.